Un dono di Natale che si è materializzato grazie alle generose donazioni di amici della Spiritollus. Il Centro Reabilitativo Equestre Gubino di fatti ha inaugurato all'interno del maneggio in località Coppiolo un sollevatore fruibile a chiunque avrà la necessità di utilizzarlo per facilitare la salita a cavallo, aspetto tra i più complessi dell'attività equestre. Un progetto nato dalla famiglia di Antonio Ramacci e proprio nel suo ricordo e nella sua memoria sarà per sempre associato il prezioso strumento per non dimenticare la sensibilità e la solidarietà che Antonio, prima e ora i suoi cari, hanno nei confronti dell'attività svolta dall'associazione Spirit. Questa struttura è nata da un'idea della famiglia di Antonio Ramacci in un momento particolarmente difficile per loro e tragico sono riusciti a tramutare una parte del loro dolore in una opportunità per gli altri e hanno pensato di farlo tramite noi. La Spirit in questo caso è stata un mezzo e questo sollevatore è un gran dono per noi, per tutti quelli che ne potranno usufruire. Noi avevamo una parte dei nostri amici, delle persone che frequentano qui che non potevano andare a cavallo, facevano solo la parte a terra. Con il sollevatore in assoluta sicurezza riescono a salire a cavallo, quindi è un grandissimo dono. È un dono che ha visto una sinergia di volontà, di intenti, di lavoro, di impegno grazie alla Team System che ha partecipato, grazie a Mario Cellani con gli autotrasportatori del cementificio di Ghigiano, anche loro hanno partecipato, donazioni private, la stessa famiglia Ramacci ha ovviamente contribuito in modo consistente. È un elemento fondamentale per noi, il momento della salita e della discesa sono gli attimi più delicati proprio dell'andare a cavallo, quindi devono essere effettuati nel più breve tempo possibile e nella maggiore sicurezza. E il sollevatore ci permette di fare questo, di dare la possibilità a chiunque di salire a cavallo. E quindi è un vantaggio sia per i cavalieri che ne soffriscono, sia per noi che fatichiamo veramente zero per effettuare questa manovra e per il cavallo che giova appunto della delicatezza con il quale si appoggia il cavaliere sulla sua schiena. Il sollevatore va a completare le molteplici attività operate dai volontari della Spirit che quotidianamente offre un sostegno senza barriere a tutti, grazie principalmente a due elementi focali. Il cavallo, che tra gli animali coinvolti nelle attività assistite è quello più ricco di valori simbolici, il più interessante, perché consente di lavorare sia sulla parte neuromotoria che in quella relazionale, e poi la localizzazione fisica del maneggio, abitualmente in un ambiente non sanitario, spesso immerso nel verde, in zone tranquille e rilassanti, che influisce positivamente nella costruzione e nella gestione degli interventi sulla disabilità. Un'attività aperta non soltanto a chi ha minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali di vario grado, ma a tutti, al fine di offrire il miglior servizio possibile di riabilitazione equestre inserita tra i programmi della cosiddetta riabilitazione integrata, sia in ambito fisico che psichico. Abbiamo adesso una nuova insegna che ci identifica come un centro di equitazione integrata, e questo per noi è il successo più grande, qui c'è equitazione per tutti, quindi chi viene trova qualsiasi tipo di possibilità per fare questo sport, che in realtà è uno stile di vita, è un gioco, è un divertimento, è una passione, e quindi qui lo possono fare tutti, ognuno con le sue possibilità, ognuno con la sua unicità. Grazie. 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 Grazie.